È stata presentata stamane nella sede di via 30 Aprile a Belluno la nuova linea di prodotti che va ad arricchire l'Officina Pollicino, finalizzata la raccolta di fondi da devolvere al Comitato Pollicino per il sostegno dei costi di gestione della Casa Alloggio Pollicino di Petrosani in Romania. La struttura accoglie bambini e ragazzi con problematiche diverse dalle disabilità gravi, intellettive e fisiche, ai disagi sociali, abbandoni scolastici, abbandoni familiari, una linea creata grazie ad una particolare donazione di tessuti provenienti dallo storico l'anificio Paoletti di Follina. Frugando in questo edificio abbiamo recuperato alcuni tessuti che potete poi vedere qui e questi tessuti sono scarti di produzione che quindi altrimenti sarebbero andati perduti, perciò il signor Paoletti ci ha fatto questa bellissima donazione e con il recupero di questi tessuti sono stati fatti questi zainetti, delle pochette, una sciarpa e delle borse. Pezzi unici particolari anche perché sostenibili, ossia realizzati con materiale di scarto e creazioni che l'officina Pollicino ha voluto valorizzare ulteriormente raccontandone in un certo senso proprio la loro storia. Ad esempio anche gli zainetti da bambino hanno ognuno una propria storia, hanno un nome proprio perché questi tessuti in sé hanno una storia da raccontare e quindi l'idea è un po' quella di farli rivivere e farli trovare poi una nuova dimensione e una nuova storia nel loro riutilizzo. Speriamo che questa scelta, ha commentato la Presidente dell'Associazione Pollicino, Morena Pavei, incontri i gusti e di sentire di chi conosce l'officina da tanto e che ci permetta di coinvolgere sempre più persone nella grande famiglia di Pollicino.